Se dici radio, comunichi di più. Ciao, pronti per la nuova edizione del Saral Food? 33esima edizione. Fiera nazionale dell'alimentazione, ristorazione, gelateria, pasticceria, panetteria, birre, vini e distillati. Dal 17 al 20 marzo. Non prendete impegni, vi aspettiamo nella nuova sede in via Erasmo Piaggio 35 a Chiatiscalo. Se dici radio, comunichi di più.